Ciao, io sono Stefano Bettineschi, insegno pianoforte per la Popcorner e parallelamente insegno pianoforte anche al liceo musicale Piafetta di Vicenze. Allora sì, una persona interessante, curiosa, sincera. Abbiamo allievi che arrivano sapendo già un po' suonare, l'avendo già fatto qualche anno di pianoforte e quindi di solito chiedo di farmi sentire uno degli ultimi brani che hanno fatto, magari l'ultimo saggio a cui hanno partecipato, in modo che ci si rende conto un po' del livello a cui sono arrivati e si riprende da lì. Visti anche un po' i gusti dell'allievo, riprendiamo dal livello a cui è arrivato e si prosegue con brani che soddisfino i suoi gusti personali e anche che diano un'impostazione valida, di base, quindi dal classico al moderno. Invece, per quanto riguarda un allievo che arriva proprio senza aver mai toccato, neanche sfiorato la tastiera di un pianoforte, che è abbastanza raro per la scuola, e nei primi, diciamo, due minuti sono tutti un po' giochini o trucchi di abilità così per imparare i nomi delle note sul pianoforte, quindi il Do, il Re, il Mi. Quindi ecco, una volta che appresi i nomi delle note, dei tasti, si cominciano le prime scale, prima la destra, poi la sinistra, impariamo piccoli motivetti, tipo l'inno e la gioia, che usa proprio cinque dita in ogni mano, e poi già alla prima lezione si riesce a suonare insieme un piccolo accompagnamento e melodie nella destra. Quindi già, diciamo, il bello del pianoforte è che all'inizio veramente dà soddisfazione in pochissimo tempo, già in mezz'ora si riesce già a suonare qualcosa. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.